Due campioni nazionali per il paese sono meglio di uno, investiremo in tipologie di capex tutti sul territorio, quindi sia gli investimenti di Tagas che gli investimenti di Snam finiscono in Italia, i nostri fornitori sono al 93% piccole e medie imprese italiane, per ogni miliardo di procurato l'anno scorso avevamo un indotto di circa 3 miliardi, quindi c'è un grosso effetto anche moltiplicatore sul PIL e c'è anche una ricaduta positiva sugli sforzi europei dell'Energy Union. È stato un percorso che nasce dalla considerazione che le due società, Snam e Talgas, pur facendo un lavoro che sembra molto vicino, in realtà è un lavoro abbastanza diverso ed è stato, devo dire, un processo fatto in tempi da record. Per noi il trasporto del gas e la distribuzione del gas sono settori di eccellenza, stiamo lavorando moltissimo con Snam, stiamo lavorando con Snam a livello europeo e il fatto che ci sia una maggiore focalizzazione del business e che Snam e Talgas ognuna si concentri su quelle che sono le attività che devono diventare attività core, è per noi molto importante. In bocca al lupo a Paolo, Antonio e tutto il resto del team di Talgas, da oggi vi guardiamo con un occhio diverso, attento anche alle performance di borsa, non nella giornata ma senz'altro nel medio e lungo periodo. Grazie, in bocca al lupo.